Per consegnare le prime stanze di reclamo rimborso. Dopo il risultato referendario, né l'ATO, che è l'Assemblea dei Sindaci, né che affida il servizio idrico, né acqua e SPA, hanno modificato niente né della bolletta né dell'affidamento del servizio. Vogliamo che questo risultato referendario venga applicato e se non viene applicato noi lo applicheremo da soli. Chiediamo ad Acqua e SPA di restituirci il 17,43% che abbiamo pagato in più dal 21 giugno fino al 31 dicembre. Come stanno reagendo i cittadini alla campagna per l'obbedienza civile? La reazione è buona, ovviamente non abbiamo una grande copertura mediatica per cui la comunicazione passa attraverso il passaparola, la rete, Facebook e quindi come diciamo tutte le comunicazioni di questo tipo si parte un pochino più lentamente e poi col passaparola cominciano ad arrivare le persone, le famiglie che dicono l'ho sentito dire da, l'ha fatto il mio vicino e quindi contiamo ad incrementare. Però 100 reclami nel giro di meno di un mese siamo ovviamente già molto soddisfatti. Non ci aspettiamo che prenderanno atto del nostro reclamo e di quella che è la normativa e quindi toglieranno subito la remunerazione del capitale investito ma attendiamo con fiducia la loro risposta scritta perché comunque ci siamo organizzati dal punto di vista legale, abbiamo un legale di riferimento anche per lato 2 così come abbiamo altri legali a livello regionale che stanno curando la parte del ricorso al TAR e altri a livello nazionale che coordinano tutti i vari ricorsi o istanze presentate su tutto il territorio e quindi controbatteremo dal punto di vista giuridico. Il nostro obiettivo non è far risparmiare 30, 40, 50 euro all'anno ai cittadini per quanto sappiamo che in questo periodo di crisi possono fare la differenza per molte famiglie, il nostro obiettivo è far rispettare la democrazia e la legalità. La Corte Costituzionale ha sancito e è il massimo organo giuridico nel nostro paese che il referendum era immediatamente applicabile, quel referendum è stato votato dalla maggioranza assoluta degli italiani dopo 16 anni che non passavano il referendum, non si può insultare così apertamente 27 milioni di cittadini.